Ciao a tutti sono Spieger e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale, come vedete siamo su Happy Wheels, finalmente sono tornato su YouTube, anche se avevo promesso nel scorso video di rientrare circa gennaio il 3 o il 4, sono un po' leggermente in anticipo, dovrebbe essere il 29 di dicembre, io sto registrando il 29 di dicembre, però non sono sicuro che esca stasera perché non so se non è il 29 di dicembre. Forse me lo consentirà il tempo e la connessione perché c'è veramente poco tempo, cioè io ho 20 minuti per registrare e caricare il video, quindi insomma in 10 minuti caricare il video forse non ce la faccio, non ho detto perché la connessione è abbastanza veloce. Allora, prima di iniziare il video volevo avvisarvi su una cosa, un evento, infatti questo mercoledì, insomma il 31, non sono sicuro che sia mercoledì, però vabbè, questo 31 quindi la vigilia di Capodanno, farò dei mini vlog, dei piccoli video di qualche minuto, in cui vi farò assistere le preparazioni per il mio Capodanno, al Capodanno stesso e anche al post Capodanno, cioè praticamente mi vedrete mezzo sorumentato, mezzo, insomma, capirete più avanti. Quindi, perché vorrei fare questi mini vlog? Prima per farvi partecipare al mio Capodanno, per chi non ha niente da fare, secondo perché non mi andava di lasciarvi senza video, insomma, di non caricare nessun video per Capodanno. E quindi, niente, vi farò gli auguri in diretta, praticamente, a distanza di qualche minuto, se la connessione mobile me lo permetterà, se la mia connessione del cellulare me lo permetterà, perché nel luogo in cui andrò a Capodanno non prende bene il cellulare, quindi dovrei tentare un po', diciamo, ad occhi chiusi, nel senso, dovrei fare le cose, come si dice, alla cieca, ecco. Allora, se ci riesco bene, se no, mi dispiace, gli auguri comunque li farò in ogni caso, magari preparerò un video che caricherò nel caso, che, scusate, non che caricherò, che pianificherò nel caso non ci sia internet, se invece c'è internet lo elimino. Va bene, iniziamo subito con Happy Wheels, Blue Sleeve, allora, allora, dovrete scusare un attimo, perché, allora, sono passato di nuovo a Windows 7, perché Windows 8 mi aveva proprio rotto le scatole, e poi aveva problemi di compatibilità, insomma, tra una cosa e l'altra ho deciso di ripassare a Windows 7, ed è perfetto, è bellissimo. Ora sta installando gli aggiornamenti, ben 170 aggiornamenti, quindi, niente, speriamo che non laghi. Allora, rating, ho anche questa volta fatto login su Happy Wheels, così possiamo anche votarle, nel caso siano abbastanza fighe, se non no. Iniziamo subito, freeze a throw, allora, vediamo un po'. L'obiettivo è, proteggi, proteggiti con questi stick dalle spade, che voleranno, wow, 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 mi avevo un infarto, non me l'aspettavo, stavo ancora leggendo. Eh, come cavolo farei a proteggermi? Ma come cazzo? Allora, after the stick go to the yellow, after the stick gets to the yellow, it will freeze. Ah, ecco. Ora capisco. Oh, fuck. Oh, fuck. Eh, ma porcaccia la puttana, cioè, devo riuscirci, scusate, ma devo riuscirci, va bene. No. No, non ce la farò. Ma, fff, fff, l'ultimo tentativo, ole, come faccio a tirare in alto? Ti odio. Dove riuscirci? No. Oh, fuck. Oh, fuck. Va bene, andiamo avanti. Come se avessi vinto, come se avessi vinto. Eh, Christmas rope swing. Va bene. Vediamo un po' se è veramente natalizio. Io ho qualche dubbio, visto che di solito si lanciano le spade. Press. Vavo a Natale? Ah, sono io vavo a Natale. Oh, ho capito che tipo di... Oh, fuck. L'ho mollato troppo presto. Ammettiamo, ammetto che c'era... C'era una piccola parte di me che diceva di essere sadico. Ok, qua mi devo reggere, probabilmente, sì. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Non accelerare, ti prego. What? What? Mi sono rotto... Brutto, Babbo Natale, di merda. No. Sei proprio un pezzo di merda. Sei proprio un pezzo di merda. Non esisti, va bene, non esisti. Oh. Scusate. Esiste, Babbo Natale esiste. Per i bambini che mi ascoltano, Babbo Natale esiste. Scherzavo. Oh, fuck. Brutto. Aggrappati, bastardo. Non spaccarti la testa, please. Dai, sganciati. Ole. Sei, sei, sei aggrappato? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Non spaccarti la testa, please. Oh, oh, oh. Con un solo braccio. Con un solo braccio. Ole. No. No. Sono un po' senza voce. Andiamo avanti. Epic Run 3D. Più fun. Cioè? It's funny. Funny. Non mi capirà. La persona che ha pronunciato queste parole mi capirà. Funny. Oh, fuck. Ce l'ho... Sì. No. Ero ancora a vivermi, sono distratto. Bambino di merda è colpa sua. È sempre colpa del bambino. Ok. Dritti. Dritti. Oh, yes. Oh, yes. Ho vinto. Ho vinto. Oh, no. Allora. Ce l'ho quasi. Ce l'ho quasi. Basta. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok. Grazie. Rope. No. Sword throw. Non l'ho ancora fatto. Sword throw. Throw. A parte quella cosa con le stecchette. Mi piacciono i sword throw. Sono salito, lo so. What? Oh, sì. Due in uno. Oh, sì. Due in uno. Affettalo. Quanto mi... Oh, porcaccia. Oh, che culo. Che culo. Ah, quelli dietro non so come fosse. Come... Come... Come faccio a prenderli? Ah, vabbè. Ho preso... Oh, le. Ho preso quello. Dai, sforzati. Dai. Ma dai, siete dei culoni. Ehi. Avrei vinto. Ecco. Vai, fa un culo. Oh, che tiro da maestro. Oh, le. Non ci posso credere. L'avete visto anche voi? Oh, sì. Lei? Eh, con le ginecchiarotte però ho vinto. Oh, i. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Ultimate Ninja. Andiamo su Ultimate Ninja. Ok, cosa devo fare? Ah, bene. Oh, fuck. Brutto. Maiale. Sei un porco. Oh, vai a fanculo. Oh, ma che trick. Ma che trick. Andiamo avanti. Oh, brutto. Testa di... Sono ancora vivo. Eh, no. Bambino. È tutta colpa tua. Tutta colpa tua. Aspettate. Prima vorrei abbandonare il bambino. Perché mi sta veramente sul... Aspetta, eh. Non è andata proprio come volevo. Dai! Ultimo tentativo. Poi... Cambiamo il livello. Anche perché ho... Oh, fuck. Ho finito il tempo. Che trick. Proprio... Di pancia. Ok. Andiamo su un altro livello. Visto che sta finendo il tempo. Il tempo. Pick up, test, track. No. Rob soccer. Come cavolo si pronuncia? Non lo mai... Ok. Sì! Ho fatto gol. Ehi. Ehi. Ho fatto gol. Voglio vincere. Oh, fuck. Non mi fa vincere questo bastardo di merda. Eh? Andiamo su... Escape fast. Vediamo un po'. Eh? Scegliamo sempre il nostro amico... Dove sei? Sei tu? Il nostro padre modello? Oh, sì. Oh, fuck. Oh, fuck. No? Oh! Che... Culo! No, devo salvare. Devo salvare il replay. Che? Culo! Salva? Ok. Ok. No, non volevo uscire. Va bene. Eh... Poco il challenge. Dai, sono bravo con il poco. Ah, io, 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 io. Andiamo avanti. Calmi, calmini. A proposito, domani probabilmente uscirà il video, il nuovo video di Arduino in cui spiegherò come collegare uno schermo. E in più, come negli altri video, oltre a spiegare le basi sul display, spiegherò, cioè, creerò un termometro digitale. Quindi, crea un nuovo progetto. Ehm... Un pochino complesso, ma con le basi che abbiamo... What the fuck? Ci serve un'altra gamba? Nah. Possiamo farcela anche con una. Non credo ci serva. È indispensabile una gamba. Oh, fuck. Non riesco a... Ah, fermi. Non devo metterla al massimo. Sì, so che è finito il tempo. Ancora. Devo solo riuscire a... A fare questo livello di merda. Stai fermo! Oh, sopra il ginocchio. Santo di non restare fermo, sto bastardo. Ok, ci facciamo un altro livello e poi chiudiamo la puntata qui, perché non ho più tempo. Ultimate, you, 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 non lo so dire, ok? Allora. You throw the sle- Ok? Ok. Mi sono già... Allora. Rileggiamo da capo. Allora. If he falls down on the right side, quindi a destra, il blocco per le gambe... Sparina. Se lo manchi... Allora, fermo. Devo lanciarla a quello, giusto? Ehm... Sè... Ok. Io sono Spiegeramontato. Se il video vi è piaciuto, mettetevi un piacere, iscrivetevi e condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google+, o sul mio sito spiegeramontato.com.mx o su Facebook digitando facebook.com.com. Spiegeramontato official. Io sono Spiegeramontato. Ciao a tutti. Ci vediamo domani con la puntata di Arduino. Yeah. Ciao. Ciao.